... Non sono ancora... Ho visto, ho visto una seconda volta che ha iniziato un po' il suo lavoro un po' il suo subito il nostro cento è una buona centisciata all'uomo se non è slesso 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 il tuo cuore non è slesso lo vuole e non è slesso e ti calmo e lui ci puoi Grazie. 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 Grazie.